Da oggi il regno della dolcezza è anche a Perugia. Candy Lisa, caramelle gommose, marshmallow, lecca lecca, praline di cioccolato e ogni altro tipo di golosità. Tanti da regalo in un vasto assortimento self-service con possibilità di personalizzare la tua confezione. Ci trovi in pieno centro storico in corso Vannucci 40. Candy Lisa, il posto giusto per tornare bambini o per sognare di diventare dei supereroi. Perdere un animale domestico è un evento tanto, troppo doloroso. Ecco perché l'impronta offre un supporto completo dal momento della chiamata sino alla restituzione dell'urna, accompagnandovi in ogni singolo passaggio. Offriamo un servizio di cremazione e un servizio di ricordi per animali. L'impronta la trovi a Selcilama, in via del fiume 10, telefono 333 65 08 082. Zanelli e Celeschi. Dal 1978, movimento terra, costruzione in cemento armato, ristrutturazione e realizzazione di edifici civili e industriali. Può rivolgerti a noi anche per la lavorazione dell'acciaio per strutture in cemento armato, coperture di abitazioni, tetti e solai in legno, ponteggi, bonificamento e trasporto autorizzato di materiale dall'iscarica. Ci trovi a Cirbara, in via Cante 1B. Zanelli e Celeschi. Qualità e sicurezza, mattone dopo mattone. Il Pierantonio ha calato il E-3 al Polchi-Laurenzi, aggiudicandosi la delicata sfida contro i padroni di Casa del Lama, valevole per la ventitresima giornata del campionato di eccellenza. Un E-K-O, il terzo consecutivo ed il tredicesimo stagionale, che allunga la crisi della formazione di caporali, ora penultima a quota 18 punti. I biancazzori di Bruni invece si sono portati a quota 33, riscattando i due K-O consecutivi ed ottenendo il decimo successo stagionale. Dopo 18 minuti di grande equilibrio, il Pierantonio sblocca la partita quando Salis scappa via sulla destra e poi serve al centro Cesarini, il cui primo tentativo viene stoppato da Ferri, ma il numero 11 ospite torna sul pallone e lo spedisce in fondo al sacco per la rete che vale l'1-0. Il Lama reagisce dopo 4 minuti con questo destro di Bracca Lenti dai 20 metri che però finisce sul fondo. Il numero 9 bianconero va a centimetri dalla rete del pareggio al minuto 26, quando raccoglie l'assist d'esterno di Bartocini e calcia, ma la sua conclusione sbatte contro l'incrocio dei pali. Tre minuti più tardi ancora Bracca Lenti a rendersi pericoloso, ma la sponda aerea di Petricci non è precisa e il Pierantonio si salva. Così le due squadre rientrano negli spogliatoi con i biancazzurri avanti 1-0 sul Lama. Nella ripresa non rientra in campo Cappellacci, costretto al cambio per un problema fisico al suo posto dentro Laurenzi, con Petricci che scala a fare il difensore centrale. Dopo un solo giro di lancette dall'inizio del secondo tempo, Zandrini viene impegnato così dal tiro cross dalla destra di Ferri. Ma dall'altra parte, al 51esimo, il Pierantonio trova il raddoppio con Morlandi, che sulle cornere dalla destra, calciato da Polidori, salta più in alto di tutti e trova l'angolino. Palla in rete e ospiti, avanti 2-0. A questo punto il Lama non riesce ad ambozzare una reazione e al 77esimo ci vuole un grande intervento di Bernardini per negare la doppietta a Morlandi. Quattro minuti più tardi viene espulso l'allenatore del Pierantonio Giacomo Bruni per proteste. I bianconeri provano a riaprire la partita all'84esimo con il colpo di testa di Bartolcini parato in tuffo da Zandrini. Al novantesimo poi Morlandi si invola così verso la porta di Scarzelli, che in uscita prende palla e uomo e per l'arbitro Marco Apuzzo di Terni, tra le proteste dei locali, si tratta di calcio di rigore. Dai 11 metri va lo stesso numero 9, con Scarzelli che dice di no, ma sulla respinta il più lesto di tutti è Muka, che spedisce in rete il pallone delle 3-0 e di fatto manda i titoli di coda del match. Dopo quattro minuti di recupero finisce così al Polchi-Laurenzi, l'ama 0-Pierantonio 3, un KO che induce il club bianconero a proclamare il silenzio stampa. Giacomo Bruni, sono tre punti pesanti. Sì, sì, sono tre punti importantissimi perché venevamo da due risultati negativi e soprattutto da una partita, quella di domenica in casa, persa all'ultimo secondo e quindi questa è una risposta importante dei ragazzi perché non era facile dopo la partita persa di domenica all'ultimo secondo venire qui su questo campo difficile dove servevano i punti entrambe e fare questo tipo di prestazione perché i ragazzi oggi secondo me hanno fatto una prestazione di grande carattere e intensità non concedendo poco a questo lama e penso che il risultato sia giusto e importante per noi e ci fa fare un passettino, un altro passettino verso la salvezza.